Se questo serve a chiudere un accordo e far partire il Parlamento il prima possibile, sì, posso tranquillamente farne a meno. Le 5 Stelle devono rinunciare a quel veto che avevano messo sui condagni indagati per chiudere l'accordo? No, no, devono esserci nomi e cognomi condivisi da tutti e penso che ogni partito possa avere nomi e cognomi condivisi da tutti.